Ciao ragazzi sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Il Fotokina 2018, la famosa fiera di colonia dedicata al mondo della fotografia, si è appena conclusa e le varie case hanno annunciato un sacco di nuove lenti e nuove fotocamere. Nel video di oggi voglio quindi farvi una sorta di riassunto di quelle che sono state secondo me le novità più interessanti presentate a questa edizione della fiera tedesca. Partiamo subito con Fujifilm e ho qua tutta una serie di appunti perché le novità sono veramente tante sia per Fuji che per le altre cose che vedremo dopo. Allora Fujifilm ha annunciato una nuova fotocamera medio formato GFX 50R che andrà ad affiancare quella più esistente la GFX 50S. Questo nuovo modello è definito economico e ha delle dimensioni leggermente più piccole della GFX 50S e uno stile a telemetro che ricorda un po' le vecchie fotocamere a pellicola. All'interno di questa GFX 50R c'è un sensore CMOS medio formato di 43,8 x 32,9 mm che ha circa 1,7 volte le dimensioni di un normale sensore full frame 35 mm. Questo sensore a 51,4 megapixel e una gamma ISO nativa che va da ISO 100 fino a 12.800, gamma ISO che si può espandere fino a 50 in basso e 102.400 in alto. Il tutto è supportato dal motore di elaborazione X-Processor che è già utilizzato sulle altre fotocamere GFX. Altra cosa non mancano ovviamente le simulazioni della pellicola per cui la Fujifilm è famosa quindi abbiamo la Velvia, la Provia, la Acros e tante altre. Il corpo macchina ha una grande quantità di controlli alcuni che sono stati anche ereditati dalle fotocamere Fuji di classe inferiore. Abbiamo ad esempio il joystick per andare a controllare i punti di messa a fuoco mentre sulla parte superiore tutti in alluminio abbiamo i selettori di apertura, dell'esposizione eccetera. Il corpo macchina è in lega di magnesio, è sigillato in 64 punti per resistere alla polvere, agli spruzzi, all'acqua ed è in grado di resistere anche al tempo molto freddo fino a meno 10 gradi. Infine Fuji ha introdotto con questa fotocamera una modalità crop 35 mm che va a utilizzare la parte centrale del sensore per circa 30 megapixel per simulare appunto un sensore 35 mm e questa caratteristica verrà poi distribuita tramite un aggiornamento firmware anche alle altre fotocamere GFX esistenti. Questa Fujifilm GFX 50R sarà venduta al prezzo indicativo di circa 4575 euro che è veramente un prezzo molto basso se consideriamo il tipo di macchina che è, una fotocamera medio formato a questa cifra fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile e sarà commercializzata verso novembre di quest'anno. Oltre a questo la Fujifilm ha annunciato di stare lavorando a una nuova fotocamera medio formato che ha il nome provvisorio di GFX 100 dove 100 sta per la risoluzione monster di questo sensore che sarà di 102 megapixel. Sì avete capito bene ben 102 megapixel insomma una roba esagerata. Inoltre questa fotocamera sarà dotata di tutta una serie di caratteristiche che finora erano parte delle fotocamere di fascia inferiore, inferiore inteso anche le mirrorless full frame perché rispetto a una medio formato le consideriamo di classe inferiore. Parliamo di un autofocus a rilevamento di fase su tutta l'area del sensore, di una stabilizzazione integrata nel corpo macchina e della possibilità di registrare video in 4k fino a 30 frame al secondo. Ecco tutto questo insieme di caratteristiche secondo me ne potranno fare uno strumento molto interessante per chi registra video magari insomma non per video per youtube o video matrimoniali ma video diciamo di livello un po più professionale, video musicali di alto livello per poter utilizzare e godere tutta la qualità di un sensore medio formato della gamma dinamica maggiore eccetera insomma sarà uno strumento molto interessante in mano ai video maker più esperti. Questo perché il corpo macchina che da vedere assomiglia un pochino a quelle delle reflex top di gamma di Canon e Nikon tipo la 1DX e la Nikon D5 perché ha il battery grip integrato. Questo corpo macchina dicevo andrà a costare intorno ai 10 mila dollari insomma il prezzo non è ancora stato dichiarato così come non è stata dichiarata la data di rilascio le caratteristiche precise. Si parla di questo per l'inizio del 2019 ma non ci si può aspettare un prezzo inferiore quindi sarà veramente uno strumento di ottima qualità ma per una fascia di mercato veramente elevata. Sempre a proposito di Fujifilm stavolta ci spostiamo in casa Capture One, Capture One che è il famoso software alternativo a Lightroom per elaborare i RAW ed è stata rilasciata una versione di Capture One specifica per Fujifilm in grado di supportare i RAW di tutte le fotocamere Fujifilm anche di queste GFX presentate adesso e di quelle che verranno in futuro. Ci sono due versioni abbiamo la versione free gratuita con cui è possibile elaborare i RAW e la versione pro a pagamento che offre delle funzionalità aggiuntive tra cui la possibilità di poter collegare la fotocamera in tethering al computer. Per chi non sapesse che cos'è il tethering consente di scattare direttamente dalla fotocamera collegata al computer e avere una visione in tempo reale dei file. È un tipo di scatto che è utilizzato molto spesso da chi fa lavori di still life, fotografia in studio, cose di questo tipo. Ma passiamo adesso a Panasonic e anche qui abbiamo degli annunci veramente bomba in quanto Panasonic ha annunciato di essere in sviluppo, in fase di sviluppo con due nuove fotocamere mirrorless, in questo caso full frame. I due modelli si chiameranno S1R e S1 che avranno come principali caratteristiche un nuovo sensore full frame da 35 mm e un nuovo motore di elaborazione delle immagini. Le due versioni saranno la S1R da circa 47 megapixel e la S1 da 24 megapixel e stando alla scheda tecnica che è stata presentata questa sembra essere al momento la unica grossa differenza tra i due modelli. Le altre cose sono in comune tra i due corpi macchina. Abbiamo intanto che saranno le prime fotocamere full frame capace di sopportare registrazione di video in 4k a 60 frame al secondo. Questo con la famosa stabilizzazione di Panasonic Dual IS che utilizza sia una stabilizzazione a livello di sensore che quella presente sulla lente appunto se la lente la supporta. Andando a combinare le due si ottengono delle riprese veramente molto stabili a mano libera cosa che non riescono a fare i concorrenti. Avrà ovviamente il doppio slot per le memorie, si parla di un XQD e di una SD. Il display sarà orientabile ma al momento dalla scheda tecnica non si capisce se sarà ribaltabile a 180 gradi come si può fare con altre Panasonic. Io penso di sì dalle foto forse si intravede la cerniera che potrebbe far ruotare il display ma questo non è stato confermato. Infine la fotocamera sarà sigillata e resistente alle intemperie quindi sarà assolutamente adatta a un utilizzo professionale. Ecco magari alcuni di voi avranno pensato ok Panasonic ha già tutta una serie di fotocamere mirrorless 4 terzi con le sue lenti ma non ha niente sul full frame. Ed è qui che arriva l'altra grande novità. Infatti per questa fotocamera è stato sviluppato un nuovo attacco che si chiamerà L-Mount. Questo nuovo attacco però non sarà specifico di Panasonic ma è stato realizzato in collaborazione tra Panasonic, Leica e Sigma. Queste tre aziende hanno creato quella che è chiamata la L-Mount Alliance all'alleanza dell'attacco L diciamo tradotto più o meno in italiano e queste tre aziende appunto porteranno ognuna le loro proprie conoscenze per lo sviluppo di questa nuova baionetta. Insomma sembra essere un attacco destinato ad avere un grande successo con tre grandi aziende dietro che lo supportano. Infatti per quanto riguarda le lenti questa nuova fotocamera Panasonic ha dichiarato che ne rilascerà tre e saranno subito un 50 mm f1.4, una lente zoom standard 24-105 mm e un 70-200 mm. Non è data a sapere al momento l'apertura né del 24-105 né del 70-200. Io mi aspetto che il 24-105 sia il solito f4, il 70-200 potrebbe essere un f4, un f2.8 ma ancora non lo sappiamo. Inoltre hanno dichiarato che svilupperà più di 10 nuove lenti per questo sistema entro il 2020. Ovviamente se siete molto molto ricchi ma veramente molto ricchi sul mercato esistono già delle lenti di Leica con questo attacco del L mount che però partono da 4.700 dollari a salire fino anche ai 6.400 dollari. Sigma invece al momento non ha delle lenti con questo attacco ma ha dichiarato che inizierà a riconvertire tutte le sue lenti esistenti a questo attacco e ne poi ne andrà a sviluppare delle nuove che appunto si basano su questo nuovo L mount. Quindi è vero Panasonic parte da zero con il parco ottiche. Nel mercato dell'usato non ci sarà praticamente niente per questo nuovo sistema ma grazie a questa opportunità che hanno messo insieme con Leica, con Sigma, riusciranno ad avere un parco ottiche di tutto rispetto in particolare con Sigma che ha già tutta una serie di obiettivi anche di alta qualità a cui dovrà semplicemente cambiare l'attacco insomma magari non sarà così banale però hanno comunque già un'ottima base ottica di partenza. Ovviamente parliamo adesso dei prezzi che non sono stati annunciati perché queste fotocamere sono ancora in sviluppo però guardando le caratteristiche anche dei sensori e della risoluzione secondo me andranno più o meno a competere con la Nikon Z6, Z7, con le nuove Canon, con la Sony A7 III, con la 7R III e quindi potrebbero posizionarsi intorno ai 2.000-2.500 euro per il modello S1 e intorno ai 3.500-4.000 per il modello S1R. Comunque al momento non abbiamo ancora dei prezzi ufficiali. E per quanto riguarda la linea micro 4 terzi verrà abbandonata? Allora assolutamente no, Panasonic ha dichiarato che continuerà a sviluppare le sue lenti per il micro 4 terzi, il suo sistema micro 4 terzi. Infatti Panasonic e Leica hanno annunciato di aver rilasciato un nuovo obiettivo zoom micro 4 terzi, vario su Milux, è un 10-25mm f1.7 che se non ricordo male il fattore di crop del micro 4 terzi è un 2x quindi quest'ottica è circa equivalente a un 20-50mm su full frame quindi veramente un ottimo range molto interessante. Arriviamo infine a Sigma, anche lei l'abbiamo citata prima, Sigma ovviamente si occupa principalmente di obiettivi e ha rilasciato ben cinque nuove lenti. Allora partiamo intanto di un 28mm f1.4 art. 28mm era una focale che si utilizzava moltissimo ai tempi della pellicola e quindi hanno voluto inserire questa focale all'interno della loro linea. Al momento c'era nella serie art il 24mm e poi si saltava al 35mm quindi col 28mm vanno a colmare il gap in mezzo. Stessa cosa che vanno a fare con la seconda nuova lente che è un 40mm f1.4 anche questo della serie art. Questa lente si va appunto a posizionare tra il 35mm e il 50mm. Secondo quanto dichiara Sigma questa lente è più orientata a chi fa cinema quindi a chi fa video perché dovrebbe avere un tipo di prospettiva particolare. Secondo me per le fotografie non ne vale tanto la pena perché è veramente molto molto vicina al 35mm. Adesso vedremo poi le caratteristiche ottiche quando ci saranno i primi sample, le prime prove però secondo me non ha molto senso avendo già un 35mm in casa, un 50mm insomma non avrebbe senso comprare anche un 40mm. La prossima lente invece secondo me è molto interessante è un 56mm f1.4 della serie Contemporary. Questa lente è stata progettata per le fotocamere APS-C quindi questo vuol dire di avere circa un 85mm equivalente su APS-C con un'apertura di f1.4 quindi una lente medio tele per i ritratti molto molto luminosa quindi questa secondo me potrebbe essere un buon successo anche perché in genere le lenti della serie Contemporary Sigma sono molto buone ma hanno anche un prezzo molto più contenuto rispetto a quelle della serie ART. Arriviamo infine alle ultime due lenti che sono delle lenti della serie Sport e sono due zoom. Il primo è un vero e proprio super zoom perché è una 60-600mm f4.5 fino a 6.3 quindi comunque non molto luminoso ma dato l'estremo range di focale ci può stare. 600mm sono veramente tanti e questo tipo di lente può essere molto indicato per chi va a fare fotografia sportiva o naturalistica anche perché è una lente stabilizzata. Infine l'ultima lente sempre della serie Sport è lo zoom 70-200 f2.8 DG OS HSM. Andando indietro con le sigle ora HSM vuol dire motore ultra sony OS vuol dire che è stabilizzato insomma il classico zoom luminoso 70-200 f2.8 che vanno a inserire nella loro linea anzi se non ricordo male esisteva già nella linea di Sigma un 70-200 f2.8 stabilizzato questo qui andrà semplicemente a migliorarne le caratteristiche. Ok ragazzi direi che con questa panoramica su tutte le novità del fotokina 2018 è tutto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!